La decisione del Prince Harry di citare in giudizio il governo del Regno Unito lo fa sembrare un bambino, ha affermato un esperto di reputazione, il duca di Sussex, 37 anni, è coinvolto in un'offerta legale per poter pagare la protezione della propria polizia quando si trova nel Regno Unito. Harry afferma di aver combattuto da gennaio 2020 per ottenere il ripristino della sua protezione dalla polizia metropolitana mentre si trovava sul suolo britannico e si è. Offerto di pagare lui stesso il conto, ha perso la sicurezza della polizia finanziata dai contribuenti quando lui e sua moglie Meghan Markle, 40 anni, si sono ritirati dai doveri reali nel 2020. Attualmente, la coppia paga per la sicurezza privata negli Stati Uniti, dove ora vivono con i loro due figli, Archie, Due e Baby Lilibet. Harry ha detto che non è in grado di riportare Meghan e i suoi figli in Gran Bretagna perché è troppo pericoloso senza la protezione della polizia. . Ha presentato una richiesta di riesame giudiziario contro la decisione del Ministero dell'Interno di non consentirgli di pagare personalmente la sicurezza mentre si trova nel Regno Unito, ora un esperto di reputazione afferma che le azioni fanno sembrare un bambino il principe e lo ha bollato come piagnucolone per la sua ultima mossa. Eric Schiffer, presidente di Reputation Management Consultants, ha affermato che l'ultima offerta legale di Harry lo fa sembrare. Oltraggiosamente fuori dal mondo, ha detto a Newsweek, Harry ha dimenticato di essere scappato in America e ha deciso di incassare la corona. Con ciò arriva una perdita di titolo e equipaggiamento. Ha accumulato milioni sul retro dell'aura reale, è dolorosamente illuso pensare che dovrebbe in qualche modo essere in grado di trarre vantaggio dalla propria decisione di voltare le spalle alla Gran Bretagna e alle sue responsabilità. Punto. Penso che mandi un messaggio che è fuori controllo e scandalosamente fuori contatto. Ha scelto di partire. Ha scelto di tagliare e scappare e capitalizzare sulla corona. Il signor Schiffer ha aggiunto, ci sono responsabilità che derivano da ciò in cui fare causa è una scelta che può fare ma lo fa sembrare un bambino e per di più piagnucoloso. Grazie.